Ci troviamo in compagnia di due grandi poeti, loro sono Angelo Sagnelli e Guido Aldani, rispettivamente uno di Milano e uno di Roma. Sentite, ma che cosa ci fanno due poeti qui a Spoleto? Due poeti qui a Spoleto si incontrano per parlare del proprio mondo poetico. Abbiamo avuto la fortuna oggi di avere con noi Guido Aldani, che è un poeta di fama internazionale, che ha un mondo poetico e che ha avuto qui un grandissimo successo per quello che rappresenta. Noi ci siamo scontrati amorevolmente perché abbiamo mondi poetici diversi e amiamo tutti e due la poesia, quindi siamo insieme per parlare di poesia. Sentali, cosa tratta il suo mondo poetico? Il mio mondo poetico è un disastro perché il mondo è un disastro. Il mondo sono dei cestini che poi sono le città, in fondo ci sono gli oggetti e tutti i popoli si scaraventano dentro perché nessuno resiste a stare lontano dagli oggetti. Questo è quello che noi stiamo vivendo, un po' come dei topolini da esperimento. E lì viene fuori che i soggetti, questo microfono ad esempio, è lui che comanda la situazione, noi siamo i suoi sudditi in qualche maniera. Allora cerchiamo di somigliare agli oggetti e allora che so, io dirò che lei è esile come un microfono, dirò che lei è sorridente come l'avviamento di un motore, di una macchina da corsa e così via, perché il termine di paragone è dato da ciò che è l'oggetto e che ci sta attanagliando. Il mio mestiere è cercare di capire questo e di dargli voce, perché 4 miliardi su 7 degli uomini che esistono sulla Terra stanno vivendo questo problema di sudditanza insieme, insieme anche a me e quindi siamo qui a ufficiare il rito della sudditanza che è anche drammatico e anche comico naturalmente. Mentre il suo mondo di cosa parla invece? Ma io parlo di energia, parlo di materia, parlo di cosmo. È una poesia che va al di là del pieno della materia e che va verso l'infinito silenzio. Quindi i temi della sua poesia sono molto simili a quelli della nostra artista che ha presidiato qui questa mostra? Sì, infatti guardando le opere ho notato che lei volge lo sguardo verso il cielo prendendo neutrini, luce, prendendo materia oscura e poi dando ad esso un colore abbastanza importante che fa cogliere il mistero a chi guarda proprio questi quadri. E quindi è una pittrice importante per il messaggio che so dare perché racchiude nella materia del quadro l'azzurro del vuoto. Senta Guido, ma secondo lei che cos'è un poeta e quando un uomo può definirsi tale? Un poeta è un uomo in trappola, è un uomo che è stato preso dalla poesia e non può farne a meno, è un crocefisso come il tossicodipendente, è crocefisso. Le uniche persone che hanno una dignità a questo mondo sono i tossicodipendenti e i poeti. Invece per lei che cos'è la poesia? Noi possiamo dire che la poesia è l'espressione letteraria dell'inesprimibile però queste cose le hanno dette centinaia, centinaia, centinaia di poeti. Credo viceversa che la poesia si identifichi in qualche cosa che adesso esprimo. Cioè io credo che il poeta compie un atto sacrale nel mettere insieme parole laiche, nel comporre un componimento che si chiama poesia là dove il componimento stesso è molto più delle parole raccolte. Quel di più è la poesia. Grazie. Grazie a tutti.